Buongiorno a tutti, mi sono Antonio Pribolo, ho 15 anni e vengo da Portici, un paese della provincia di Apoli. Tra tutti gli artisti della musica italiana ho deciso di cantare un pezzo di Regasso Zero per testare dei pezzi che si avvicinano molto alla mia sensibilità. Infatti sono una persona molto sensibile e lo vedo tutto alla mia mamma e voglio vogliare l'occasione per dire che la persona mi si ama molto. Tanto a dire di fare anche qui perché mi ha detto di fare anche qui. Tutto questo è fatto io e io nella nostra vita. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.